Renditi di senatori e deputati, il più ricco è Mauro Tovere, il più povero è Dell'Ai. Tra caro stioro il 100.000 euro, ma gli alto-tesini vincono Manbassa e viaggiano attorno ai 500.000 euro. Muore 14 anni, terribile schianto autoscooter in bassa tesina, dell'impatto l'auto prende fuoco. È successo a Cortaccia, il giovane ha perso la vita sul colpo. Riti V2 minacce, dopo aver organizzato l'ingresso in Italia, facevano prostituire le ragazze e chiedere l'emosina ai ragazzi. L'indagine coordinata dall'antimafia di Catania ha avuto epilogo a Trento. Omicidi, il rapporto del Viminale evidenzia il Trentino a più 200%, i diritti vengono commessi in famiglia. Schuster, la provincia, non si preoccupa della cultura di genere. Lupo sì o lupo no, ormai è referendum a colpi di petizioni. Da una parte gli assessori dalla piccola Schuller, dall'altra l'allegante caccia. Intanto, da domani, al Muse, inizia la settimana del lupo. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con CAF Acli. CAF Acli ti dà più che una mano. www.acli-servizi.it 199-199-730